Sì, 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 capito? Settimo di Bunosa, ma te verso che ora vieni? A me non mi regolo io. Perfetto, vai. Sono ora a mettere, sì, sono ora a travasare il vino in decanto. C'è un vinellino buono, un Chianti 82, ma tu tessi che spettacolo a l'età. Questa è un rosato, ci sta bene con i cinghiali. Vai, t'aspetto, t'aspetto, a dopo. Sono frittino, sono frittino, la 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 la, i cinghiali, la sega non c'è, i cinghiali, il fritto non c'è. Vai, a che lavoro, ragazzi? Vai, spettolita, ma sanno una sega, sanno una sega, non si fa fare soffritto per dire, sanno una sega, macchino, tabacco, ugnosa, tabacco, sigaretta, ma chi c'ha, ma che gli fa, ragazzi? Vai, ta, 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 o vai, fammi vedere qui a che punto siamo della cottura. Ah, direi ci siamo quasi, eh? Ci siamo, ci siamo, che bontà, ragazzi, che bontà. Che bello fare il cinghiali, fa lo rosolano. Vai, ci siamo, porca, ci tenta, qui, spenta, malevetto. Io, come l'ho accattato, non c'è una sega. Spero io, l'accidenta. Bada, bada, bada. Sì, questa tu la vedrai e non la butto via. E tu la mangi, così, insomma, molto una sega. Ma, no, l'accidenta. Sì, va, la butto via, ma non ho capito. Gli è buono, guarda, gli è buon dica, gli è buona, non è che... Oh, vai, prepariamo. Crustino, ragazzi, c'è olio, sennò è un antipasto. Dice, ti ha fatto mangiare il primo e il secondo. L'antipasto ce non lo fa, allora la va a fare pure. Crustino, ragazzi, c'è olio, eh. Il filo, il filo va allevato, sennò si strozza. Mmm, bada, bada. Maionese, maionese. Eh, 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 il tocco, il tocco, il tocco di classe. Mmm, 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 crustino, ragazzi. Non ne mettino... Allora, ci siamo, apparecchiatura. Ma non è caldo. Ma che scherzi. Senti, senti che... Non sudiamo mai, eh. Allora, io mi ci metto qui. No, io ci metto cose. Lui lo metto qui. Io lo metto qui. Non è all'ubbittato. Lui lo metto qui. Lui lo metto qui. Io lo metto qui. Venti. Oh, vieni, vieni. Allora, ha portato un'altra? Ma ho trovato tutto giusto. Ma ho pensato a chi hai gelato. Sì. Ma poi ho detto, ma chi ti garberà? Ma quegli altri? Quegli altri non sono meno utili. Che alla fine ce lo tirai di pacco. Oh, meglio solo, si mangia più, si mangia più. Ma che sbaglio è io? Andiamo, andiamoci da mangiare. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni a sedere. Che tu stai qui? Io sto qui. Oh, guarda. Come si sta, eh? Bene, bene. Allora, io ho fatto un ultimastino. Ma un importalo. Tu dove stai la mattina? Eh, un dovere. Sai, cazzo non è affare. No, ultimastino, poi tutto scinghiale. Ti garbo scinghiale? Sì, mi garba sì. Perfetto, scinghiale. Eccolo, 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 attenzione. Guarda qua. Occhio. Tagliato, ho fatto taglierino, taglierino, mortadellina, toscano, classico, olive, crostini. Guarda, questi vedi ti li fanno attenti. Ti lascio, ti metto qui. Il tagliato e il pane tagliato. La maionese sono fresche. A me ti fa fresche. Vai, vai. Figlia, figlia. Mangia, mangia. Guarda, io sarei già a posto quasi così, eh? Vai, è tanto. Mangia, figlia, figlia. No, mi sta, mi sta. I rostini, figliagli, figliagli. Ti fai la ossa. Ma te non mangi nulla? Sì, è un maggio. Me lo sa, stanotte ho avuto un mal di stomaco, ho tutto un cacare. Oggi pomeriggio l'ha fatta a mangiare, ho finito la strada. Cucina che ha detto, cucina che ha detto, cucina che ha detto. Ma che scherzi? Oh vai, ci siamo? Te lo levo? Se non mangi nulla, però, tutto è timido. E se no mangio nulla dopo. Ma che c'è dopo? Dopo c'è pappardelline sui cinghiali ammazzato in il multarbano. Oh, spettacolo. Vai, vai. Vado qua, eccole, pappardellina sui cinghiali. Ma è cinghiale questo qui? Cazzo, cinghiale sì. Ma no, ma no. Ma, ma sta sicuro? Perché io non ce lo sento. Ma fatti, quando tu fai... Allora, non ti sbagliare. Il sugo ha il cinghiale, il cinghiale non ci va. Perché se no gli è troppo, gli è troppo, gli è troppo speziato. E sono... Non ho. Che c'è? C'è un capello. In dove? Nella pasta. Nella pasta. E' una... No, ma deve essere un capello, deve essere un pello di cane che anzi di andare a giocare. Mangia! Ma le vado un altro bacione ancora ce n'è un monte. Ma guarda, io, guarda, sono a posto. E sono cose che tu puoi organizzare a stradeo, a tutte le scelte, o di... Oh, ma... Ah, qui ragazzi. Ah sì? Beh. Allora, che diano? Io sono ancora a cena, non sono a cena. Come soliti, no, c'è una banda. Siamo una banda. Fai, ti dico, dipende come si sorti. Sì, dipende come si sorti, perché qui gli ha ancora... La situazione gli ha critica. Un lo so se ci si fa dopo cena. Siamo già... Sì, se è bello è finito una macchina e vino. Fiamo una banda, ma poi c'è... Piano di cicada. Piano di cicada. Siamo tutti. Siamo tutti. Tanto sei forse a venire. Perché tu sei una fava. Vai. Ci s'aggiorna. Ci s'aggiorna. Ci s'aggiorna dopo. Vai. Vai. I facciani. Oh. Vai. Allora... Come siamo stati? Ma bene. Ma... Fa un momento di fare. Ma mi dici una cosa. Sì, dimmi. Ma è il solito della bottiglia. Certo, diamine. Ma no. No, perché qui c'è scritto vino bianco, no? Allora ho detto... Qui. Capito, no? E si vedeci di essere stato tipo... Hanno sbagliato, davvero. Ah. Hanno sbagliato. Ma capita. Capita. Come siamo stati? Bene, guarda. Bene, bene. Bene, bene. Bevi, bevi. Sì, sì, bevi. Bevi. Oh, vai. Ah, allora... Come siamo stati? Ma bene. Come stare bene? Senti, caffèino? Te lo porto un caffèino? No, è un soltanto di caffè. Bravo, tutto bene. Guarda, il caffè fa male. Anch'io sono un sopec caffè. Di moncellino però si truide voi, eh. Di moncello? Di moncello? Vai. 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 Badaà. Badaà. Di moncello, ragazzi. Ho questo lì, te pensa, questo lo fa, lo facevo io, questo lo fu io, con le mani. Ha fatto detto che le moncello... Ma sembra più arancione, come colore. Perché gli ha fatto con le arance? Le moncello ha fatto le arance. Questo è lo speciale, speciale. Senti, bello. Ma io, ora, sono un po' a sterio, diciamo. Io, da finire una quotidiana, io gli a sterio. Che si mette a sterio, se le venti. Ehi, ma non ne fai complimenti, tu ne devi fare i complimenti, ma nè, ma pestà. Vino, tu ce ne devi fare i complimenti, tu sei a casa mia, te facuto, tu sei a casa mia. Fernando. Eh. Fernando. Fernando, mi vicino, che se ne piacere a mangiare. Ah. Io bisogna venire vada, ci vuole andare. Poi, vai, senti, ti facciamo, dammi 25 anni, ci fa 25. Ah, poi. Oh, ragazzi, eh, oh, ragazzi, devo pagare, devo pagare. Oh, bah, io ci metto una casa, ogni cosa, e non ho capito. No, e tu non mi sa, che non mi diciamo, ma ragazzi, si fa le città. Non fa la casa tua, non sei a volta, perché finché c'è da venire i bellini, ha mangiare a scrocco, fucivenichi, fucivenichi. Eh, vai, via, andiamo, io, eh, sono 25, ragazzi, io non ho capito, perché ti vede, ma non posso stare a fare cine per gli altri, ti fudo tutte le orti, avete una banda, o sì. E c'è un vent'euro, e vanti venti, ma vanti venti, ma vanti venti, ero, ma ci andiamo a benzina, ma ti faccio capire un'altra volta, non so le cinque euro, daniele, hai capito? E non so le cinque euro, non so le cinque euro, via, per piacere, perché, 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 poi c'è da andare a giro, guarda, a giro, poi c'è da c'era, ci manca cinque euro, manca di c'ero, stai a casa, stai a casa, allora, se ne buccia me i soldi, stai a casa, o vai, e anche questa le andrà. Guarda, 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 te lo dico sinceramente, guarda, e si è mangiato di me, via, e no, e quando tu fai le cine, guarda, un minuto male, per piacere, un minuto male, 25 euro, andiamo, te la maionese, andiamo, ma va a fare il culo, vai, ma qua da questo? Io le faccio anche cinque euro, ma gli stai a far di bene alle centi, ma va a fare il culo, guarda.